Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video ti spiegherò le soglie per i Fringe Benefit per l'anno 2025. Ecco tutto quello che devi sapere. Nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, è stato confermato per il triennio 2025-2027 l'aumento del limite ordinario annuale da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i lavoratori. Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, incluso quelli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottivi o affidati, il limite anno è stato elevato a 2.000 euro. È stato inoltre confermato che, entro i limiti di esenzione, saranno incluse anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche, per le spese di affitto dell'abitazione principale e per gli interessi sul mutuo della stessa. La misura sarà prevista per tutti i lavoratori subordinati e, considerato l'impianto normativo pari a quello dell'anno scorso, si ritiene possano fruire della misura anche i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca mi piace, iscriviti al canale per sostenerlo e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi video.